...favoritismi così perché ha detto che bisogna ascoltarci, che poi tra poco... ...poi magari dici la RDS Bag, perché lo fai, no, è un po' così per piaggeria, no, diciamo... ...quindi non mi sembra corretto darla agli altri, quindi hai vinto tutto! ...hai fatto una prova, felissima! ...è il nostro amico, la RDS Bag, tra dieci minuti esatti, peggio di peggio, quindi raddoppiamo... ...e se dovete andare, l'app potete scaricare... ...ha detto anche il nostro scontratore che non è il nostro parente, lo specificiamo! ...mangelo diventerà!